2 il più grande prospetto del Brescia Nicolò Rovella ma non ci credo ragazzi che onore grande Nick X, Nickox io ti chiamo Nickox va bene? dalle frate fate che non ti... ah ok ok adesso sei dritto ragazzi accogliamo Nicolò Rovella ma lui nooo ma tu sei tu sei quello Tomori sei ficaio Tomori un applauso ma ok bene bene ma loro scusate scusatemi come cioè come come ma dai cioè si chiede ma aspetta un attimo ma frate ma Pina? Pina Monti? eh Pina Monti quello del del West End è fortissimo lui lo sento perché lo senta? si schiva pinnix dai schiva pinnix aspetta che schiva pinnix mamma mia io l'adoro come come cioè come cioè eh c'ho più voglia di parlare scusami davvero comunque vi presento ragazzi vi presento Anna che lei ciao ragazzi ciao aspetta che arrivo come fai a sopportare lasciamo stare scusate ho allenato fino adesso vero ma non sei a mondiale no 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 avete visto ti posso chiamare Nickox Nickox ok Nickox te conosci Rossigno si scusa ho comprato la maglia posso fartela vedere ho scritto Rossigno dietro sul vi piace bello bella bella forte spacca ma loro cioè sono cioè lui lui è Tomori saluto how are you how are you lui è lui non lo riconosci non so Edoardo stoppa stroppi stroppi ma se chi cazzo è stroppa no no stroppa no stroppa stroppa lo conosci conosci stroppa no ah ok 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 ma per caso per caso lì lì c'è anche Zagnolo Sandro Tonali si è l'assimuto Sandro è lì Sandro Sandrino vieni Sandro Sandro vieni io l'adoro Sandro te lo giuro io una volta Sandro Tonali abbiamo fatto sesso dieci anni fa guardalo come fa la canzone quella di Danny Five Sandro Tonali sei tu cavolo ci sta ci sta bomba bomba ma scusa la domanda Nikox tu quanti ne hai? 21 ah tu hai la mia età e tu quanti ne hai? no dai diciamolo assieme facciamo dai 3 2 1 21 grazie grazie no sono contento tra l'altro assomiglia a Paletta quello dietro ma tra l'altro Paletta gioca ancora al Monza eh di capelli di capelli manca poco non gioca più al Monza Paletta? si si gioca ancora? si si gioca per modo di dire perché è una capra di che è una capra Nicolò Rovella appena affermato che è un suo compagno di calcio fa schifo Paletta ha detto è forte è forte è forte è forte che è il compagno di squadra più scarso che tu abbia mai affrontato no scusa 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 domanda fuori luogo scusami davvero il tuo mister è no aspetta adesso è Gennaro Gattuso no chi è Gattuso non mi ricordo mai no aspetta chi è? quello chi è? no Stroppa è Stroppa Stroppa è quello di prima bravo quello che vi stava facendo andare in serie B Stroppa ma cosa mi combini? e ti faceva giocare Stroppa? ti faceva giocare eh bravo Stroppa bravo e adesso invece chi è che c'è come mister? Palladino Palladino e ti fa giocare? sì bravo Palladino eh stai attento che io sono di Monza ti avviso che ti tiro una centra se non la fai giocare una partita di Monza di Monza no dai sì dimmi qualcosa per farti io sono il Brianteo cioè dove c'è un rotondone no lo so e poi a destra cosa c'è? lì lì c'era c'era una zona dove facevano i tamponi l'anno scorso bravo e invece a sinistra quando tu arrivi a sinistra e dipende da dove arrivo eh tu arrivi da diciamo dallo stradone quello lungo ok quello da Monza cioè proprio dal centro di Monza ok a sinistra se vado a sinistra dritto ancora c'è ancora un'altra rotonda dritto ancora si entra si va verso i mercati tipo bravo giusto e ci abito cioè non è vero non è vero che ci abito nella rotonda come te lo posso dimostrare che abito Monza tu sei di Genova no ma che Genova non è vero come no 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 dici esattamente dove eh Lissone ah ho capito ma te te sei di qua io abito a Milano si ma tu di dove sei? cioè da dove nasci? di Milano e che cazzo sei andato a giocare al Genova in quella squadra di merda? no 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 scusa Genova forza aspetta aspetta rimedio subito forza Genova forza Genova forza Genova Genova nel cuore ok ok tu che hai squadra tifi? no vabbè Genova dai e se dovessero facciamo un'ipotesi assurda tu sei nudo in centro a Milano ecco ok ti ferma Pinamonti Pinix un saluto a Pinix e ti dice non c'è più male di parlare scusate veramente ragazzi e mi dice? no 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 non c'è più male di parlare ok ma tu conosci Pinix bene? si ma c'è Petagna? è quello dietro è quello qua di fianco a me qua a destra vediamo? no Luca Luca Petagna non ci credo oddio oddio scusa prova a dirmi una parola in napoletano visto che ha giocato a Napoli per diversi anni io? eh voglio è lui sì è lui è lui l'ho riconosciuto l'ho riconosciuto ma tu veramente cioè mi conosci cioè è veramente preoccupante questa cosa io? vieni Alfie Alfie vieni Alfie vieni qua Alfie Alfonso Alfie vieni no non viene Alfie non viene Alfie no scusa tu cioè non mi segui cioè hai visto delle clip ti sono uscite ma cosa no qua c'è il tuo fan numero uno guarda Bomba no quello cioè è un mix tra due persone però Bomba è mio cioè qual'è la seconda? no ho visto questo qua io lo so qual'è no non farlo fallo fallo ma non farlo no ma se ne sessi perde questo mi fai cadere no aspetta devo farlo facciamolo assieme scusa facciamolo assieme aspetta maestro aspetta maestro prendi un pallone arrivo arrivo sai il coraggio scartami testa di cazzo di scarto hai capito? hai capito che di scarto? ti scarto ti scarto scusa scusa mi volano i capelli no no vai tranquillo vai tranquillo aspetta guarda 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 cos'è che faccia fare lui guarda guarda non fare però sì io contro il nemaro no vabbè ma ma scusa ma c'è un camaleonte lì quel camaleonte è tipo è tipo bastoni è tipo bastoni contro rossigno zitto a cuccia no però no mi offendo quello lì è un animale Ma non si, cioè mi sa che è morto, cioè non volevo dirtelo No, 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 è vivo, è vivo Eh, è vivo? Sì, 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 è vivo, mi sa Adesso è dormendo, adesso, vedi che gli occhi chiusi Ah, ok, è in letargo Esatto Ma ha mai affittato un albergo, lui? Non lo so, però chiedi, magari ti rispondo No, non ci voglio di parlare con questo cazzo Posso parlare con Ficario Tomori? Tomori, adesso metto la canzone, balliamo assieme Tomori, Tomori Balliamo assieme Ho l'affanno, ho l'affanno, non farmelo fare più Dai, no, per favore, facciamolo senza palla, però Lo facciamo così Sbagliato È richiamo È richiamo È richiamo, senza palla Senza palla? Vai, vai, adesso Tieni qua Con la musica Si sente, cavoli E si sente bene Ma che musica E che musica, ragazzi E che musica, ragazzi? Allora, fai, 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 fai Fai, fai, fai Fai, 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 fai Ok, ok, ok Ok, 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 ok Cioè, è sul pezzo, è sul pezzo Ma quanti anni ha il bro? Troppi Sì, c'è, si vede anche No No, scusami, no Insultami, mi sono sentito in colpa per un secondo Mi insulto tutti Dimmi che sono la testa del cazzo È il biondo da oggi Bomba Questa era brutta, però Scusa, non volevo No 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 L'hai fatto piante Mamma, una tetta No No, niente Si scherza, si scherza Ok, ok Dai No, stavo dicendo Stavo, stavo dicendo a A Nickox Ma tu mi conosci grazie a Al A Tomori Al maestro Sì, ma mi conosci per clip Non perché mi segui No, io non ho Twitch Ah, ok Quindi vedi delle clip TikTok, TikTok Ok, ok, bene Infatti, Valentina mi aveva chiesto Cioè Ma la conosci bene o Cioè, io solo No, scherzo, scherzo Un saluto a Valentina che Simpatica, simpatica Simpatica Adesso ti farò vedere Una serie di mister Ok E tu dovrai dire qualcosa Su questi mister Ti farò vedere una serie di mister Vabbè, dai, vabbè Lui è il mister più famoso del Lui, vabbè, lo si conosce È Pioli Questo è Pioli Questo è Pioli No, scherzo Non ti faccio vedere assolutamente nulla Sto scherzando Ho visto un moderatore Che ha messo una foto E quindi ho chiesto questa cosa Ehm Ma perché tu abiti A Milano Se giochi a Monza Sì È un quarto d'ora Ma quindi non è Milano Milano Come no Abita a Milano, sì Ma minchia Non ci vuole un quarto d'ora Ma fai sempre l'autostrada Sì E noi non faccio l'autostrada Perché costa troppo per me Cioè io stream in una cantina Con 30 mega Non so ancora come faccio ad andare avanti la live Però sono una persona umida Infatti Maglia La rocca di mio padre Però va bene Tu scusa Nikox Sei della Juve Però giochi a Monza Che tra l'altro lo sai che Te l'ha mai detto che assomiglia a Luca Modric Come Sì I piedi non c'entrano un cazzo Te lo posso assicurare Ah no Pensavo No 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 è così È così Ma in Ma è Sei a casa tua? Sì Scusa scusa È casa tua? Sì Bella 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 Quella è casa tua? Dai Un po' indiscresa come domanda forse No No Chiedere se è casa mia Cioè No Forse Forse È esagerato Sì Forse È esagerato un po' troppo Però Vabbè Non è Non è importante Adesso No Cos'è che volevo chiederti Ma io una volta sono venuto in curva Curva sud Credo del Monza O nord Qual è? Curva sud No è curva sud o curva nord Quella del Monza? Curva sud Sì Ero venuto a vedere Non credo che sia Non Eh? Io sono venuto a vedere Monza-Como due anni fa Quando eravate in Serie B L'anno scorso Due anni fa Non mi ricordo Ok Sì no Non sapevo mezzo coro Che partita era? Eh? Che partita era? Monza-Como Il derby Quanto è venuta? Forse O pareggio O perso il Monza Ma non è vero che è vero È possibile Forza Comu Ah no 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 Forza non c'è Non c'è Forza Non c'è Forza Comu Forza non Sei stato chiamato in nazionale Per farle le amichevoli te? Sì No Ah quindi Cos'è che erano? Con l'Austria Che abbiamo perso Stranamente No io non ero in nazionale Non ti hanno convocato? Eran de Ventura Nazionale italiana Svegliatevi Guardate davvero Ma non ti hanno chiamato? Saluto Come funziona una convocazione? Ti mandano un sms? Un email? Un fax? Sì Ogni tanto Ho un fax Diciamo La maggior parte delle volte Ok ok E tu firmi? Cosa fai? Cosa fai? Cioè Cioè La cazzo sta facendo No no Pensavo Non ho capito Conosci Mascara Giuseppe? Sì Sì ragazzi Questa 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 live Me l'ha pagata la Juventus C'è una plus valenza Di circa 30 milioni No scherzo Piccolo No 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 Scusa Nikox Scusami davvero Non faccio più battute sulle squadre Non le faccio mai più Mai più Te lo giuro Ma Nikox Scritto? N J K L Ah ok Fatti No 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 Ma scusa Vedo che sei No lui ci fiede Lui ci fiede Lui ci fiede Subito Dove è che me l'hai messo il peso? Hai speso L'hai messo? No 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 Non so no no Tu le è messo il peso Via Vabbè è così no cosa è un morlone ma sei uno scemo scusa io preatore ogni tanto ci perdiamo in queste no io in verità volevo fare ti tenevo ancora 5 minuti perché non voglio romperti il cazzo comunque essendo un giocatore pubblico cioè presumo che sia il declino della tua carriera a questo momento e ci sta sì ci sta ma mi potresti inviare la tua maglia autografata del breccia sì 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 ovviamente sì e sopra ci scrivi testa di cazzo di un rossigno per favore va bene va bene conosci il zio greggio? sì papà papà puoi far venire giù il zio greggio? due secondi due secondi c'è un e lui è il zio greggio salve lui è Nicola Rovella ah caspita lui che c'è? no no lui poi fai di solo ciao a le veline per farlo di te le veline? a posto puoi andare in bagno puoi andare in bagno ciao 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 ehm sì dai eh guarda mi ha la mente un po' a ridere faccio il mio po' a ridere di cerebelline ok io devo andare in bagno sì 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 infatti volevo salutare volevo fare scusa davvero non volevo ehm faccio l'ultima non ti ho sputato scusa volevo fare sì no ma poi tu sei da solo no 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 sputato ma capita c'è ogni tanto c'è ogni tanto no ha detto sei da solo no beh faccio non c'è problema ehm sì sì vai tranquillo e no e volevo farti l'ultima domanda la prossima volta che segni puoi puoi mettere no no metti una maglia sotto che ho scritto bomba va bene la prossima volta che segni devo fare il primo il primo gol si no anche no la prima volta che qualcuno segna tu te ne frega un cazzo segna segna petagna segna petagna tu vedi all'altra parte di cinquadrate metri sulla maglia va bene va bene promessa a posto a posto nicox è stato un onore ti rinviterò perché sei simpatico anche Ficaio Tomori spacca anche cioè tutti tutti veramente forte ragazzi un salutone grazie per essere passati ciao ciao